bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi beh beh mi sembra che lo state già vedendo siamo in what the hen vero rosita brava rosita brava la nostra mascotte d'eccezione ragazzi perché il nostro amico codin mi ha appena dato il nuovo codice promozionale che è uscito qualche istante fa un paio di orette fa perché vedrete il video fra un pochettino e ragazzi mi ha detto xyuder guarda che è uscito il nuovo codice è bello sugoso vedi di portarlo e allora ragazzi io lo vado a fare siamo qua in what the hen come vedete stile halloween ci sono zucche dappertutto c'è la nuova carta shelly che abbiamo provato qualche ora fa e come vedete con 450 gemme possiamo anche prendere la skin di halloween da usare ovviamente sempre andiamo intanto a prendere il pumpkin chest che è il forziere della zucca attenzione attenzione 54 gretta bandito 12 spinoso fiorito molto bene molto bene 4 alcolix druido molto bene anche per lui grande carta 30 archilson cupido questi li uso nel deck quindi mi fa molto piacere vuole molto interessante per adesso arrivano le rare sono 7 colonne infuocate questa non la uso avanti ancora 3 tonni paggetto e potrebbe esserci l'epica ragazzi potrebbe esserci l'epica andiamo a vedere ed è un'epica ed è uno smith il caposquadra peccato comunque niente andiamo a prendere il paolozzo ragazzi e dobbiamo andare a inserire il codice adesso quindi là in alto mi raccomando cliccate sul numero del vostro livello quindi quel logo a forma di stella azzurra e poi sul codice promozionale ragazzi siamo pronti ad inserirlo ma prima di inserirlo vi ricordo e dai e dai di mettere un bel like a questo video ragazzi se mi piace tutta la serie di one day mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che potremmo nel codice ragazzi lo andiamo ad inserire come dicevamo poco fa halloween 2017 scritto in numero andiamo a dargli un bello ok andiamo inviare il codice ragazzi wasabi arriva ragazzi shelly sbloccato così con il codice di halloween ragazzi la nuova epica rilasciata da what the end 500 di gold e 200 gemme mamma mia com'è sugoso com'è sugoso questo baule ragazzi spero che lo inseriate al più presto beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video e mi raccomando ci vediamo presto ciao ciao